Un giorno comprenderemo ogni cosa perché parleremo una sola lingua, spiritualmente parliamo già una lingua, ma allora ci comprenderemo pure gli uni gli altri. È necessario parlare di alcune cose, come dovrebbero essere fatte le cose qui in chiesa. Il fratello Frank l'ha già menzionato la sera scorsa, io ho sentito pure altre cose, sebbene ora ci stanno ascoltando in tutto il mondo, sono persone come noi che hanno bisogno di ammunizione per sapere come comportarsi nella casa di Dio, dove la parola di Dio viene ascoltata e predicata. Innanzitutto, quando veniamo qui, che possiamo essere disciplinati e restare in silenzio. Se dobbiamo salutarci allora ci salutiamo e dopo parliamo gli uni con gli altri quando la riunione è terminata. Perché voi venite in questo luogo per prepararvi per il servizio, alla predicazione della parola, per ascoltare ciò che la parola ha da dirci. Altri sono in preghiera, altri vogliono unirsi ai cantici e rallegrarsi al riguardo. Ma se ci sono delle cose che disturbano, questo non è bello. In altri luoghi, e questo lo dico ora coscienziosamente, se noi andiamo da qualche parte, per esempio, che viene chiamata, fra parentesi, casa di Dio, allora le persone sanno come comportarsi e così dobbiamo fare anche qui. In modo definitivo noi dovremmo farlo qui. Vi chiedo di prestare attenzione a questo, che ci troviamo in luogo consacrato, che dobbiamo essere disciplinati. Non dobbiamo stare muti. Possiamo salutarci gli uni gli altri, sì, ma dopo bisogna rimanere in silenzio e prepararci a ciò per cui siamo venuti qui. per parlarci possiamo telefonarci. Tutte queste cose possiamo farle dopo. Dopo possiamo parlare gli uni gli altri, ma qui noi veniamo per ascoltare la parola ed adorare. Un'altra cosa, i fratelli che prendono da noi una cuffia per la traduzione dovrebbero riportarla là dove l'hanno ricevuta. affinché non dobbiamo cercare le cose. Queste apparecchiature sono molto costose. Dobbiamo dirlo. Per favore, siate così gentili da riportare ogni cosa dove la ricevete. Anche questo che ho detto ora non dovrebbe impedirci di ringraziare il nostro Signore per quello che Gli ha fatto per noi. La sera scorsa abbiamo ascoltato la preziosa parola e ce ne siamo rallegrati. Questa mattina vogliamo pure ringraziarlo nel miglior modo possibile. Vale a dire con il cantico numero 31. Cantico numero 31. A Dio sia la gloria. Egli ha fatto grandi cose. Ed egli ha fatto grandi cose per noi. Cantico numero 31 da questo libricino. Egli ha fatto grandi Grazie a tutti. 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 Ancora... Amen. 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 Grazie a tutti. anche a tutti. tutti. ho espresso... Grazie a tutti. che... tu hai fatto con noi. ricordati. che... che tu hai... per... che... 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 ricordati... che... che tu... hai dato... che... 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 ... ... che... da... ... che... da... da... ... ... che... ... che... 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 ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ... ... ...... 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 ... ...... 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 ... Tutti noi lo sappiamo, che il fratello Branham è stato mandato realmente da Dio per restaurare ogni cosa nella sua condizione originale. Tuttavia, lasciare che innanzitutto legga i versi della grazia e della misericordia. Paolo, in ogni epistola, ha iniziato con il termine grazia ed ha pure terminato così. La grazia, egli la mette al primo posto. E prima che leggiamo tutti gli altri brani, brevemente ora, Romani, capitolo 1, verso 5. Dunque, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per amore del suo nome. Noi abbiamo ricevuto grazia e la stessa grazia che abbiamo ricevuto come predicatori della parola. L'hanno ricevuta tutti quelli che credono e ricevono la parola predicata loro e che credono la predicazione. Come Paolo ha scritto in Romani, capitolo 11, riferendosi ad Isaia, capitolo 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione? In primo corinzi, capitolo 1, nel verso 3, nel verso 3 noi leggiamo Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Andiamo alla fine di questa epistola. Tutti questi capitoli parlano e trattano la grazia. E poi, proprio alla fine, sono scritte le meravigliose parole nel verso 23. Primo corinzi, capitolo 16, verso 23. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. E noi giriamo giusto una pagina e leggiamo in due corinzi, capitolo 1, nel verso 2. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Andiamo alla fine di questi capitoli che Paolo ha scritto, nell'ultimo verso, in due corinzi, capitolo 13. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Giriamo una pagina, Galati, capitolo 1, verso 3. Grazie, grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amén. Andiamo di nuovo nell'ultimo capitolo. Ed è sempre la grazia. Galati, capitolo 6, verso 18. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amén. Andiamo di nuovo un passo avanti in Efesini, capitolo 1, verso 2. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dove c'è grazia c'è pace, dove c'è grazia c'è perdono, dove c'è grazia c'è riconciliazione, dove c'è grazia il popolo è aiutato. Andiamo alla fine della lettera agli Efesini. E di nuovo nell'ultimo capitolo, l'ultimo verso dice La grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con sincerità. Benedetto sia il nome del Signore Che amano il nostro Signore Gesù Cristo con sincerità. Fedeli fino alla fine. Perché abbiamo trovato grazia nel cospetto di Dio. Filippesi, capitolo 1, verso 2. Grazia a voi e pace. Continuamente la grazia ed ancora la grazia. E di nuovo alla fine, nell'ultimo verso, Filippesi, capitolo 4, verso 23. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Possa Dio farci grazia ogni giorno, ogni ora, fino alla fine. E che possiamo recuperare il tempo della grazia perché giunge al termine. Colossesi, capitolo 1, l'ultima parte del verso 2. Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Continuamente la grazia. Anche qui, nell'ultimo verso, in Colossesi, capitolo 4, dice La grazia sia con voi. E di nuovo, nel verso 1, in primo, testano i cesi, capitolo 1, la seconda parte del verso 1. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Oggi vogliamo mostrarvi cosa significa aver trovato grazia al cospetto di Dio. Noi potremmo leggere tutti gli altri capitoli. Qui, in primo testano i cesi, capitolo 5, l'ultimo verso. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. E se la grazia è con noi, allora il Signore ci mostra le sue vie. Allora Egli ci parla. E dopo noi riconosciamo il suo piano eterno di salvezza. 2, testano i cesi, capitolo 1, verso 2. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E dopo ciò che segue è così potente ed ancora potente. Quello che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. Come non ci darà ogni cosa con Lui, possiamo continuare a leggere. Ogni inizio, ogni fine dell'epistole ha il suggello della grazia di Dio. Qui, in due testano i cesi, capitolo 3, verso 18. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Di nuovo nel capitolo successivo, in primo Timotio, nel verso 2, la seconda parte. Grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Soltanto grazia, grazia e ancora grazia. Che siamo stati salvati è grazia. Che possiamo riconoscere il tempo in cui viviamo è grazia. Secondo la scrittura, farò grazia a chi vorrò far grazia. Leggiamo in Esodo, capitolo 33. Esodo, capitolo 33. Esodo, capitolo 33. Si potrebbe leggere qui, dal verso 11. Tuttavia, lasciatemi iniziare dal verso 13. Esodo 33, dal verso 13. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, De, fammi conoscere le tue vie. Dite amén. Se abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio, allora, caro Signore, mostraci i tuoi piani, le tue vie. La sera scorsa abbiamo letto che quando un uomo muore, allora i suoi piani terminano. Ed abbiamo pure enfatizzato che quando lo Signore è morto, allora il piano di Dio è entrato in vigore. E il consiglio del nostro Dio ha trovato adempimento. E qui leggiamo questa preghiera di Mosè. Mosè non era contento di udire soltanto le parole di Dio tu hai trovato grazia al mio cospetto. Questo non era sufficiente per lui. E gli disse se ho trovato grazia ai tuoi occhi, De, fammi conoscere le tue vie. perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Dopo viene la parte del popolo che è stato chiamato fuori. Considera inoltre che questa nazione è il tuo popolo. Non è la mia chiesa né la chiesa di alcun uomo. Il nostro Signore è Redentore ha riscattato la sua chiesa ed egli edifica la sua chiesa. e noi possiamo avere parte in essa e i suoi piani egli li rivela soltanto al suo popolo. Se leggiamo nel profeta Amos Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Dopo naturalmente comprendiamo che Dio ha un piano di salvezza. comprendiamo che Dio ha un ordine divino nel suo piano di salvezza per grazia. Continuiamo a leggere verso 14 il Signore rispose la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Questo è giusto. ed anche oggi noi diciamo se tu non vieni con noi Signore allora noi non proseguiamo affatto. Noi non facciamo un passo senza di te soltanto con te ed ancora soltanto insieme a te. Dopo il verso 15 Mosè gli disse se la tua presenza non viene con me non farci partire di qui. E' diverso oggi possiamo fare un passo senza che Dio sia con noi senza che Lui ci dia delle istruzioni noi confidiamo in Lui e crediamo che Egli ci condurrà in modo meraviglioso perché noi crediamo le promesse che Egli ci ha dato. Nel verso seguente verso 16 poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi innanzitutto Mosè pregò per se stesso se ho trovato grazia agli occhi tuoi e dopo viene il popolo affinché il popolo possa riconoscere di aver trovato grazia agli occhi tuoi e dopo Egli continua se tu non vieni con noi questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. in che modo in questo tempo la chiesa del Dio vivente si distingue da tutte le denominazioni che sono sulla faccia della terra da questo che la presenza del Signore è direttamente con noi e che Egli ci rivela la sua parola e la sua volontà poi il verso 17 il Signore disse a Mosè farò anche questo che tu chiedi perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente e ti conosco personalmente dopo Mosè chiese ti prego fammi vedere la tua gloria versi 18 19 e 20 e dopo il verso 21 e il Signore disse ecco qui un luogo vicino a me tu starei su quel masso e Mosè era nella buca di quel masso e la mano del Signore era sopra questa buca e sopra Mosè e quando il Signore passò così è scritto nel verso 23 poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro ma il mio volto non si può vedere nell'Antico Testamento Dio volse le spalle al suo popolo nel Nuovo Testamento Egli ha rivolto la sua faccia verso di noi e chi legge Primo Corinzi capitolo 10 può vedere la roccia che Mosè ha colpito la roccia che accompagnava il popolo Israele era Cristo e se domandiamo in altre scritture profetiche allora possiamo soltanto gridare come sono meravigliosi i tuoi pensieri oh Dio come è meraviglioso il piano di salvezza che fu già mostrato in anticipo nell'Antico Testamento ed ora veniamo nel Nuovo Testamento per comprendere che il Signore ha una via con la Chiesa ricordate ricordate la frase se io e il popolo abbiamo trovato grazie al tuo cospetto allora fammi conoscere le tue vie facci conoscere le tue vie ora il brano nell'Antico Testamento Isaia capitolo 44 verso 26 Isaia capitolo 44 verso 26 io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri con questo andiamo in Geremia capitolo 31 per avere davanti a noi che Dio già nell'Antico Testamento ha annunciato in anticipo il piano di salvezza e tramite certi avvenimenti egli l'ha pure dato Geremia capitolo 31 e qui leggiamo il verso 21 metti delle pietre miliari fatti dei pali indicatori poni benmente alla strada alla via che hai seguita ritorna vergine d'Israele torna a queste città che sono tue metti delle pietre miliari recentemente abbiamo parlato pure riguardo a questo noi non rimaniamo davanti a una pietra miliare ma andiamo avanti verso la meta la destinazione ma le pietre miliari sono necessarie noi abbiamo bisogno di queste pietre miliare altrimenti non abbiamo alcun orientamento e gli uomini di Dio sono messaggeri sulle mura di Sion che vegliano per il popolo di Dio e trasmettono le istruzioni al popolo di Dio dopo abbiamo in Ezechiele capitolo 36 una meravigliosa parola in Ezechiele capitolo 36 dal verso 24 parallela alla chiamata fuori di tutti quelli che ora sono dispersi nelle varie chiese Ezechiele capitolo 36 dal verso 24 io vi farò uscire dalle nazioni vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese il Signore Dio ha detto io lo farò questo è il piano di Dio il proposito di Dio nel tempo della fine di radunare il suo popolo da ogni nazione e portarli nella loro terra e dopo accade ciò che è scritto nel verso 25 vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli tutti noi sappiamo che l'apostasia l'infedeltà nel popolo di Israele è stata che essi hanno seguito altri dei che li hanno serviti questa è stata l'apostasia e l'insulto a Dio nell'Antico Testamento noi l'abbiamo detto alcune volte nell'Antico Testamento 6356 volte è detto è detto al singolare Elohim Yahweh Dio il Signore l'unico Dio che di eternità in eternità non due né tre ad ogni modo quando questa apostasia ha preso il suo corso nel cristianesimo allora sono venuti tutti i concili tutto ciò che è stato deciso là lo giusto riletto di recente al concilio di Nicea solo 318 persone votarono per il dogma della Trinità e solo nell'anno 386 lo Spirito Santo fu dichiarato quale terza persona ma la Sacra Scrittura non dice così Dio è Dio sin dal principio Egli si è rivelato e non ha bisogno che alcuno lo formi e lo spieghi Dio si rivela come Egli vuole in vari modi come Creatore Redentore Re tutto in tutti dunque noi crediamo in questo luogo nell'unico vero Dio che era e che ci sarà per tutte le eternità noi crediamo che Egli si è rivelato a noi come Padre nel Figlio per darci per darci l'adozione come figli e figlie e perciò il Redentore poteva dire io vado al Padre mio e Padre vostro al Dio mio e Dio vostro Giovanni capitolo 20 verso 17 noi crediamo ogni verso crediamo ogni parola così come scritta anche questo è grazia anche questo è grazia che non dobbiamo modificare neanche una sola parola ma che possiamo credere con tutto il nostro cuore se è scritto figlio dell'uomo allora lo crediamo se è scritto figlio di Dio allora lo crediamo se è scritto figlio di Davide allora lo crediamo se è scritto figlio di Abramo allora lo crediamo se è scritto agnello di Dio allora lo crediamo se è scritto avvocato allora lo crediamo Se è scritto Mediatore, allora lo crediamo. Noi crediamo assolutamente ogni parola di Dio così come è scritta. Ed anche questo è grazia. Questo dobbiamo e possiamo enfatizzarlo continuamente. Presidente, voglio dire con sincerità che non ho tempo per alcuna discussione, né in merito a questo o a quel soggetto. A chi Dio non ha dato chiarezza, a costui non lo aiuterà alcuna discussione. Ma veniamo ora ad una cosa speciale, vale a dire in Genesi capitolo 18, quando il Signore diede la prima promessa ad Abramo, e fece il patto con Lui. Si tratta di una cosa veramente importante. Genesi capitolo 18, dal verso 17. Il Signore disse, dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande, potente, e in Lui saranno benedette tutte le nazioni della Terra. Ed ora viene. Infatti, io l'ho prescelto, io l'ho prescelto perché ordini ai Suoi figli e alla Sua casa dopo di Lui, che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Qui abbiamo la prima condizione che seguano la via del Signore, tutta la via del Signore. Ciò significa che c'è una descrizione di questa via e che bisogna seguirla ed ubbidire a tutto ciò che viene lungo la via. Anche se vengono delle prove, si deve continuare a seguirla affinché Dio possa adempiere ciò che ha promesso. qui siamo in un punto veramente importante e per favore non siate scoraggiati, non siate scoraggiati. Dio è stato misericordioso verso di noi. Egli ci ha aiutati fino a questo momento ed Egli ci aiuterà anche nelle ultime cose affinché possiamo realmente arrivare all'ubbidienza della fede. in accordo con Dio e con la Sua parola che non camminiamo accanto alla via ma che camminiamo realmente nella via di Dio affinché Egli possa adempiere tutte le promesse che ci ha dato tramite la Sua grazia. dopo abbiamo in Esodo capitolo 13 Esodo capitolo 13 qui l'uomo di Dio parla in merito a ciò che deve accadere. Esodo capitolo 13 versi 21 e 22 il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino di notte in una colonna di fuoco per illuminarli perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Anche qui possiamo dire lo stesso Signore lo stesso Dio si è rivelato nel nostro tempo nella stessa colonna di nuvola e nella stessa colonna di fuoco per mostrarci la via nella quale dobbiamo camminare adesso uscendo da ogni disubbidenza uscendo dalle nostre proprie vie per camminare realmente nella piena ubbidienza e in fede in questa via stretta di Dio. Poi in Deuteronomio capitolo 8 siamo ancora molto ammaestrati e informati in merito a ciò che il Signore vuole darci lungo la via. Deuteronomio capitolo 8 qui leggiamo il verso 6 osserva i comandamenti del Signore tuo Dio cammina nelle sue vie e temilo fratelli fratelli e sorelle perché Dio ha messo così tanta enfasi su ciò che la Chiesa sposa deve essere tirata fuori dalle proprie vie dalle proprie direzioni deve essere chiamata fuori e piazzata sulla via della salvezza sulla via stretta che il Signore ha preparato per noi per mezzo della sua grazia perché la fine deve essere come è stato l'inizio prima del rapimento deve aver luogo che la sposa diventi una parte dello sposo come era già nel giardino dell'Eden che il Signore preseva fuori da Adamo e la portò a lui ed egli esclamò questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa sarà chiamata donna perché è stata presa dall'uomo tutti voi lo sapete il fratello Brana talvolta ha parlato in modo molto duro alle sorelle egli ha mostrato il posto alle sorelle ma se ascoltiamo attentamente allora constatiamo questo la donna non è uno zerbino e neppure la padrona ella sta direttamente accanto al marito allo stesso livello con la differenza che l'uomo è il capo come Cristo è il capo dell'uomo e Dio è il capo di Cristo così ogni donna qui veniamo in un punto veramente importante non soltanto nella chiesa se siamo nella chiesa allora Paolo scrive in primo corinzi capitolo undici e gli scrive nella lettera a Timotio come le donne devono comportarsi e dopo accade quel che accade e quando vengono a casa allora accade ogni altra cosa allora sembra che l'ordine divino non sia più valido ciò di cui abbiamo bisogno oggi ed io non sono un predicatore che fa la morale sono più un insegnante che un predicatore ma di questo abbiamo bisogno oggi che non facciamo alcuna differenza tra la chiesa e la casa tra la vita con Dio e la propria vita ma che l'ordine divino sia con noi dovunque ci troviamo sì e qui arriviamo ad un punto in cui non vogliamo trattenerci molto tuttavia siamo in Efesini capitolo 5 come la chiesa è sottomessa a Cristo così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa lo dico ancora una volta non sono un predicatore che fa la morale il fratello Branham ha parlato abbastanza al riguardo e se tutti noi le prendiamo a cuore allora abbiamo l'insegnamento come non non c'è mai stato prima sulla terra tuttavia ad una cosa dobbiamo prestare attenzione anche questo non possiamo obbligarlo deve venire dall'interiore deve essere operato da Dio stesso anche l'uomo non può strattonare la moglie e dire ascolta io sono il tuo capo no così non va l'uomo deve vivere ciò che egli è il capo affinché la moglie possa riconoscerlo come capo tutto deve ritornare nell'ordine divino anche anche riguarda questo abbiamo bisogno di grazia semplicemente grazia che possiamo avere un accordo interiore verso ogni parola di Dio poi in Giosuè abbiamo una parola meravigliosa in Giosuè capitolo 3 dove la Chiesa ha preso la sua posizione ed essi hanno portato l'arca del patto Giosuè capitolo 3 dal verso 3 dietero al popolo quest'ordine dicendo quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno il vostro Dio portata dai sacerdoti levitici partirete dal vostro luogo e la seguirete ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti più o meno 1000 metri non avvicinati ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare perché prima d'ora non siete mai passati per questa via anche noi tutti con riverenza e timore dobbiamo mantenere la distanza ed io sono sincero ora se l'arca del patto fosse esattamente davanti a me allora non saprei come andrebbero le cose là ma se c'è una certa distanza allora ho una chiara veduta di come va la via allora non vedo soltanto davanti al mio naso ma posso guardare avanti la viene portata l'arca ed io devo soltanto seguirla qualunque sia la via questa è la lezione che Dio vuole darci qui voi non siete mai passati per questa via l'arca del patto va davanti a voi la parola rivelata è nell'arca del patto mantenete una certa distanza in riverenza e timore affinché possiede sapere come procede la via è qualcosa di meraviglioso dopo nei giudici in giudici capitolo 2 anche qui abbiamo le istruzioni nell'antico testamento di ciò che doveva essere fatto per avere riverenza e timore dinanzi all'arca del patto nessuno poteva fare ciò che voleva non potevano andare a destra e a sinistra no c'era un ordine divino collegato a ciò anche oggi nessuno può camminare a destra e a sinistra dell'arca del patto passando accanto alla parola ma con rispetto deve riceverla e credere quello che Dio ha rivelato e poi seguire il Signore qui in giudici noi leggiamo nel capitolo 2 giudici capitolo 2 verso 17 ma neppure ai loro giudici davano ascolto anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore ma essi non fecero così ma essi non fecero così abbandonarono abbandonarono ben presto la via che i loro padri avevano percorso in ubbidienza essi prostituirono ad altri dei diciamolo ancora una volta in questo tempo la chiesa di Gesù Cristo è l'unica sulla terra che non divide Dio in tre persone uguali ma che crede come dice la scrittura che Dio si è rivelato in cielo come padre sulla terra nel suo unigenito figlio e nella chiesa per mezzo dello Spirito Santo Dio sopra di noi Dio con noi e Dio in noi tre rivelazioni personali di Dio per eseguire il suo proprio piano di salvezza e come abbiamo detto prima per darci l'adozione di figli quando egli divenne uomo a questo dobbiamo prestare attenzione ora non un figlio è diventato figlio ma la parola è stata fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi e dopo venne la promessa che fu data a Maria e per fede lei la ricevette e disse io sono l'ancella del Signore mi sia fatto secondo la tua parola e poi colui che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio ed anche questo è molto importante cari fratelli e sorelle Maria non era la madre di Dio io l'ho sentito a Lima Perù quella domenica mattina di buon'ora durante una messa in realtà volevo ascoltare le notizie sulla CNN ed ecco che c'era in onda la messa cattolica probabilmente per la prima volta in vita mia ho visto ciò in ogni dettaglio ogni cosa era là l'altare era là il prete era là l'ostia rotonda era là e che altro c'era là delle donne vestite in uniforme con delle belle sciarpe delle belle uniformi e accanto c'era un uomo che suonava la chitarra nella chiesa cattolica a Lima Perù l'ho visto due settimane fa e dopo il prete diceva continuamente Santa Maria Madre di Dio non c'è un solo passo nella scrittura dove vi sia scritto Dio il figlio neanche un solo passo in tutta la Bibbia neanche uno non c'è un solo passo nella Bibbia dove vi sia scritto Dio lo Spirito Santo neanche uno di Dio il Padre abbiamo 36 brani uno dietro l'altro dopo se diamo uno sguardo attento come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me la madre del mio Signore viene da me e qui abbiamo questo punto importante se la Bibbia dice Signore allora vuol dire Signore se dice Dio allora vuol dire Dio se dice Dio il Signore allora vuol dire Dio il Signore non possiamo entrare nei dettagli sono sincero sono molto felice riguardo a questo che Dio mi ha reputato degno io il minimo fra tutti che non ho udito soltanto la voce del Signore ma che una volta il 17 giugno 1979 ho udito la voce di Dio e la differenza è che il Signore parla con potenza con voce di comando ma non c'è un eco nella voce nella voce di Dio io direi che c'è un eco quasi insopportabile l'eco di un tuono come probabilmente non è facile udire su questa terra una volta ho sentito qualcosa di simile a Siglesville nella Svizzera dove c'era l'eco delle montagne e i tuoni rombavano nella voce nella voce di Dio c'è un rumore chiaro come un tuono che penetra tutte le membra tutte le ossa dico questo a motivo di ciò che segue per esempio quando il nostro Signore ha pregato e la voce di Dio si è fatta sentire allora gli uni dissero è stato un tuono e gli altri un angelo gli ha parlato il Signore era qui e la voce di Dio è che Gio non voglio entrare nei dettagli ora ma per me per me è così importante è così prezioso come la parola di Dio è stata divisa in modo corretto e come possiamo mettere ogni cosa al posto giusto dove non vacilliamo in alcun punto ma siamo realmente passati su un terreno di rivelazione e tutta la parola ci è stata rivelata bisogna persino prestare attenzione quando è scritto figlio per esempio chi il figlio rende libero perché non sta scritto il figlio di Dio perché non sta scritto il figlio dell'uomo perché è scritto soltanto chi il figlio rende libero perché in primo corinzi 15 verso 28 non è scritto figlio di Dio ma il figlio si sottometterà e dopo Dio sarà tutto in tutti in quale relazione egli è figlio di Dio in quale relazione egli è figlio dell'uomo in quale relazione egli è figlio di Davide figlio di Abramo cari fratelli e sorelle il piano di salvezza di Dio ha un ordine divino ed ogni cosa è in questo ordine divino in modo meraviglioso e Dio vi dico la verità non c'è mai stato prima un periodo di tempo su questa terra in cui abbiamo avuto un simile accesso nel piano di salvezza del nostro Dio tramite rivelazione questo è il tempo diciamolo francamente quando leggiamo Daniele 12 allora non è sufficiente leggere soltanto che la rivelazione sarebbe stata suggellata fino alla fine poi vediamo ciò che accade molti saranno separati purificati e nettati la rivelazione che Dio ci ha dato anche tramite l'apertura dei sette suggelli e questo fratello ora che ha scritto al riguardo che i sette suggelli non possono essere stati aperti perché la Chiesa viene rapita in Apocalisse capitolo 4 in realtà egli dovrebbe vergognarsi perché? perché si trattava che i sette suggelli fossero aperti che noi potessimo vedere i quattro cavalieri che vanno in modo parallelo alla Chiesa del Nuo Testamento nelle quattro fasi tutto ciò che Dio ha rivelato ci deve essere rivelato per mezzo dello stesso Spirito non abbiamo bisogno di un sapientone abbiamo soltanto bisogno di persone che si aprono davanti a Dio persone che non vogliono ammaestrare Dio ma che vogliono essere ammaestrate da Dio potremmo entrare qui in molti dettagli ciò di cui abbiamo realmente bisogno è l'umiltà per avere accesso alla parola di Dio ci sono realmente molti passi biblici ora sul mio cuore lentamente ma certamente arriviamo alla fine ora andiamo in Isaia capitolo 35 abbiamo le meravigliose parole Isaia capitolo 35 e qui leggiamo dal verso 8 Isaia capitolo 35 dal verso 8 là vi sarà una strada maestra una via che sarà chiamata la via santa nessun impuro vi passerà essa sarà soltanto per quelli che la seguono anche gli insensati non potranno smarrirvisi dite amén anche gli insensati persone che sono convinte di non sapere nulla in questa via non potranno smarrirsi devono soltanto camminare in questa via camminare semplicemente in essa poi potremmo leggere pure dei meravigliosi passi della scrittura che Dio ha mandato il suo profeta per preparare la via e dopo egli ha preparato la via affinché la gloria di Dio potesse essere manifestata manifestata Dio ha condotto ogni cosa in modo meraviglioso possiamo leggere Matteo capitolo 3 verso 3 voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri lasciate che riassumiamo ciò di cui si tratta sono vie meravigliose nelle quali Dio guida il suo popolo viene detto al singolare è la via della salvezza la via originale nella quale Dio cammina con la sua chiesa e c'è soltanto uno che poteva dire io sono la via la verità e la vita c'è soltanto c'è soltanto uno che abbiamo davanti ai nostri occhi che ci ha redenti noi seguiamo lui in modo che possiamo pure dire non la mia ma la tua volontà sia fatta e come abbiamo detto prima l'ordine divino deve essere stabilito in ciascuno di noi che sia a casa che sia qui ed anche questo vorrei evitare di ripeterlo ma queste orecchie hanno udito molte cose anche l'affermazione là hai qualcosa da dire indicando la casa di Dio ma qui sono io che ho qualcosa da dire no Dio ha qualcosa da dire qui e là qui e là e se Dio non ha qualcosa da dire qui e là allora c'è qualcosa che non va forse anche questo deve essere detto una volta chiaramente una donna che non si sottomette al marito in realtà si sottomette al nemico che diventa il suo capo la donna ha bisogno di un capo e se lei rigetta il marito come capo allora il nemico prenderà il posto vuoto e da quel momento ogni cosa andrà male dunque possa Dio farci grazia forse non avrei bisogno di dire questo perché il fratello Branham l'ha esposto nei suoi sermoni perché dovrei essere in contrasto con le persone non ho bisogno di farlo e tuttavia non è così fratello Kupfer tuttavia deve essere detto possa Dio essere con noi in questo anno proprio dal principio e possa la rivelenza il timore davanti alla sua parola possa tutto ciò essere in noi affinché egli possa realmente manifestare la sua presenza in mezzo a noi che possiamo essere uniti a lui e gli uni con gli altri nella parola di Dio nello spirito di Dio nell'amore di Dio e dopo in ciascuno di noi sarà impiuto ciò che è scritto in ebrei ora lo leggo in ebrei capitolo 3 ebrei capitolo 3 versi 7 e 8 ebrei capitolo 3 versi 7 e 8 perciò come dice lo spirito santo oggi se udite la sua voce oggi se udite la sua voce senza giudicare ora ma noi chiediamo può la sua voce essere ascoltata in ogni denominazione chi ha qualcosa da dire là chi ha qualcosa da dire in tutte le rioni carismatiche dove è il piano di Dio e dove sono i piani degli uomini Dio ha un piano di salvezza con la sua chiesa tutti gli altri egli li lascia camminare nelle loro vie ma per voi e me egli non permette più che abbiamo le nostre proprie vie abbia la tua propria via o signore e noi siamo questi lo diciamo sinceramente e apertamente noi siamo in questo tempo coloro che prestano attenzione e ascoltano la voce dello spirito santo che hanno la parola rivelata dallo spirito santo la parola come lettera oggi ce l'hanno tutti ma soltanto chi fa parte della chiesa sposa ha la parola dello spirito santo la parola per quest'ora le promesse e tutto ciò che vi appartiene ci viene rivelata dallo spirito santo e perciò l'ammunizione nel verso 8 non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione come nel giorno della tentazione nel deserto dunque non indurite il cuore non opponetevi ma accettate e ricevete la parola e dopo Dio fa grazia di poterla vivere tutti voi lo sapete che nel verso 10 dice pure perciò mi disgustai di quella generazione e dissi sono sempre traviati di cuore non hanno conosciuto le mie vie così giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo e dopo l'ammunizione indirizzata a noi badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente l'ammunizione che ciò che accadde con Israele non si ripeta con noi noi dovremmo prendere ciò seriamente io credo che tutti quelli che ricevono la parola rivelata dallo Spirito Santo vanno avanti in fede e ubbidienza che l'incredulità e la disubbidienza non possono più toccarci e che possiamo essere uniti con i nostri cuori a Dio ricordate la parola grazia come abbiamo enfatizzato all'inizio in ogni epistola all'inizio e alla fine grazia noi abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio Dio ci fa conoscere le sue vie tramite la sua grazia e tramite la fede e l'ubbidienza possiamo camminare nella sua via e il Dio che ci ha guidati fino a questo momento completerà la sua opera con tutti noi per mezzo della sua grazia ed io sono convinto sono realmente convinto che tutti quelli che hanno la rivelazione della parola tramite lo Spirito Santo fanno parte della Chiesa Sposa diventa chiaro per noi non importa dove leggiamo lo Spirito Santo dà chiarezza lo Spirito Santo guida in ogni verità possano tutti i nostri fratelli che hanno parte nella proclamazione in ogni popolo lingua e nazione possa ognuno essere benedetto realmente da un estremo della terra fino all'altro e che nessuna strana dottrina che nessuno spirito strano che nulla di strano venga più sulla Chiesa dei chiamati fuori possa Dio dimorare in mezzo a noi possa egli parlarci possa egli essere all'opera possa la sua volontà essere fatta per mezzo della sua grazia quanti sono d'accordo con questo che la sua volontà possa essere fatta che realmente la sua volontà possa essere fatta per mezzo della sua grazia e io vi dico ciò accadrà ciò accadrà il Signore Dio completerà la sua opera e ci sarà una perfetta Chiesa sposa senza macchia né ruga lavata nel sangue dell'agnello santificata nella parola di Dio suggellata con lo spirito santo fino al giorno della redenzione dei nostri corpi il nostro Dio fa un'opera perfetta egli completò la sua opera di creazione ed egli porta a compimento con ciascuno di noi la sua opera di redenzione in questo tempo noi crediamo Dio confidiamo in Dio e sappiamo che egli adempirà ogni cosa tramite la potenza del suo sangue della sua parola e del suo spirito egli condurrà ogni cosa nella sua chiesa in modo meraviglioso e la porterà a compimento ne sarà valsa la pena portare il messaggio divino come ultima chiamata in tutto il mondo ne sarà valsa la pena credere il Signore ne sarà valsa la pena lasciare tutte le nostre proprie vie lasciare tutti i nostri pensieri le nostre proprie dottrine lasciare ogni cosa dietro facendo un nuovo inizio con Dio riflettete un po' se ci radunassimo e ciascuno portasse con sé le vecchie dottrine e le vecchie convinzioni cosa verrebbe una totale confusione Dio dice ecco io faccio ogni cosa nuova io farò un nuovo patto un nuovo cuore un nuovo spirito mi rivelerò di nuovo a voi questo l'abbiamo sperimentato in tutti questi anni in modo meraviglioso e lo vedremo e lo sperimenteremo ancora di più egli ci guiderà finché passeremo dal credere al vedere finché questi corpi mortali saranno mutati finché saremo rapiti con lui nella gloria a lui l'onipotente Dio che ora completa il suo piano di salvezza nel quale noi abbiamo ora una parte diretta a lui sia l'onore oggi e per sempre e per tutta l'eternità e noi possiamo dire con certezza Dio ha fatto grandi cose per noi noi possiamo cantare tu di sé rivelato a me possiamo dire tu ci hai parlato con noi ogni cosa è diventata vera a lui il Dio sempre fedele sia l'onore nel nome santo di Gesù amén alziamo alziamoci in piedi per pregare e chiediamo alle nostre due sorelle di cantarci un cantico di invito e dopo pregheremo di nuovo per tutti quelli che hanno una richiesta di preghiera che desiderano consacrare la loro vita al Signore che possiamo portare tutte le preghiere davanti a Dio essendo convinti che Egli ci ha già risposto anche là la nostra fede è ancorata nelle promesse ringraziamo Dio per la grazia per la redenzione per la salvezza oggi vogliamo realmente ringraziare Dio per ogni cosa tuttavia per favore state attenti che nessuno lo faccia a voce troppo alta ora ma che tutti possiamo pregare insieme che anche nella preghiera si trovi un'armonia e non che qualcuno lo faccia con la voce troppo alta perché sarebbe un disturbo e se dovesse accadere allora chi è accanto potrebbe tirargli la giacca e dirgli non così perché gli altri vengono disturbati anche nella preghiera come nella predicazione ci deve essere un'armonia se c'è qualcosa che disturba allora non va più bene lo Spirito Santo è così gentile ogni cosa deve essere fatta in santità in armonia nella presenza di Dio sono certo che avete compreso nella giusta maniera il mio motto è chi è retto nel suo cuore comprende tutto in modo corretto cantateci un cantico preziosi sorelle di Dio di Dio Geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen uns schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz, können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen, wir zum Siegen uns schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen uns schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und sein, gehört Jesus allein. Auf dem Brandaltar will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen uns schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den Königin Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kronen, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen uns schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen uns schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Amen. Il Signore dà grazia al riguardo. Ricevetelo semplicemente. Ricevetelo semplicemente. Dio ce l'ha dato per mezzo della sua grazia. Non dobbiamo fare alcuno sforzo. È la sua vita in noi. Come abbiamo detto molte volte, la vita che era nel sangue divino del Figlio di Dio è in tutta la schiera riscattata. La vita eterna e tramite ciò noi abbiamo ricevuto il diritto di diventare figli di Dio. Nati di nuovo ad una vivente speranza tramite la potenza di risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Avete questa speranza in voi? Dite Amen. Io ne sono convinto che anche da questo fine settimana siamo fortificati nella nostra fede, ritornando a casa sia in aereo che in macchina e Dio avrà la sua via con ciascuno di noi. Preghiamo gli uni per gli altri, tenendo il vincolo dell'amore divino. Seguiamo il Signore per fede, come abbiamo udito in questo inno. Ubidendo e confidando sarà la nostra vittoria. Se ci sono fratelli e sorelle in mezzo a noi che hanno bisogno di preghiere, noi siamo qui per pregare con voi e per voi. Ciò appartiene a questo. Come abbiamo detto la sera scorsa, il nostro Signore non insalva soltanto, e gli ha perdonato i peccati alla gente, ha guarito gli ammalati e liberato coloro che erano legati. In ogni riunione aveva luogo l'opera sovranaturale di Dio. A questo vogliamo ritornare per mezzo della Sua grazia. Noi abbiamo le promesse e vogliamo vedere e sperimentare l'adempimento per mezzo della Sua grazia. Quanti sono stati fortificati? Quanti hanno ripreso coraggio? Perché noi sappiamo che Dio completerà la Sua opera. Chi ne ha i nostri capi? E vorrei chiedere chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera? La preghiera può operare miracoli. Se noi crediamo, ciò accade e Dio risponde. Abbiamo qualcuno che vorrebbe consacrare la vita pienamente al Signore? Alzate pure la mano. Grazie. Abbiamo altri che hanno malattie? Alzate semplicemente la mano. Grazie. Sì, grazie. Ha qualcuno problemi con qualche genere di schiavitù? Fumare, bere e qualsiasi cosa possa essere? Noi portiamo ciò al Signore. Egli libera i prigionieri. Ecco come è scritto. Noi abbiamo una piena redenzione tramite il sangue dell'agnello. Non vi vergognate. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per aiutare ciascuno di noi. Per benedire tutti noi. Abbiamo altre richieste, altre petizioni che non sono state menzionate qui. Dopo le porteremo pure al Signore. Preghiamo insieme. Grande Dio, abbiamo ascoltato insieme la Tua parola. Abbiamo lasciato le nostre proprie vie, i nostri propri pensieri ed abbiamo messo i piedi sulla via della salvezza. E tramite ubbidienza della fede noi possiamo camminare in questa via. Caro Signore, Tu hai eretto delle pietre miliari. Ci hai fatto grazia di prestare loro attenzione. Tu ci hai detto, questa è la via. Camminate in essa. Guardate indietro dove hanno camminato i vostri padri. Ritornate nella stessa via. Caro Signore, noi ti ringraziamo per questo. Che la fine sarà come è stato l'inizio. Ti ringraziamo per la Tua presenza. Ti ringraziamo che sei qui. Che confermi la Tua parola. che guarisci gli ammalati, che liberi i prigionieri, che perdoni ai peccatori i loro peccati. Caro Signore, lascia che la gioia irrompa. Un grido di giubilo possa irrompere. Perché Tu hai fatto grandi cose in noi. Benedetto e lodato sia il Tuo meraviglioso nome. Noi crediamo che Tu hai confermato la Tua parola. Caro Signore, volgi il Tuo sguardo sopra ciascuno di noi. Dacci la Tua pace e la Tua benedizione. Benedici in modo particolare tutti i fratelli nel Ministero, in ogni popolo, lingua e nazione. Completa la Tua opera. E vieni presto, Signore Gesù. Caro Signore, io reclamo qui, reclamo ogni anima che ha ascoltato la Tua parola dalla mia bocca e la crede. che possano avervi parte quando Tu chiamerai i tuoi. Dona fede, Signore. Dona ubbidienza e sii con tutti noi. Dona rivelazione ad ogni passo, rivelazione per ogni parola. Noi Ti ringraziamo che l'arca del patto è aperta, che la Tua parola è stata rivelata e che Tu ci parli dal cielo rivelandoci ogni parola. Benedici la Tua Chiesa su tutta la terra. Sii con tutti noi, Signore. Benedici questo nuovo anno che è iniziato in modo speciale come mai prima. fa che accadano grandi cose e se è possibile che accadano come mai prima possono accadere per la gloria del Tuo nome. Anche per questo noi abbiamo la promessa. Tu sei un grande Dio, un Dio fedele. Tu sei diventato nostro Padre tramite Gesù Cristo il nostro Signore. A Te, il Dio Onnipotente, appartiene tutta la gloria, tutta la lode e l'adorazione ora e per sempre. Alleluia! E tutti dicano Alleluia! E tutti dicano Amen! Alleluia! Io lo amo! Io lo amo! Cantiamo Io lo amo! Cantiamolo in inglese! Noi tutti diciamo Amen a questo. Noi tutti diciamo Amen a questo. Noi tutti diciamo Amen a questo. ora chiedo al fratello Smith di dire alcune parole di dare i saluti a tutti voi ed anche di fare la preghiera finale con noi. Cosa dovrei dire a tutto questo? E' già stato detto. vorrei semplicemente dire che queste parole possano accompagnarci. Come l'ha espresso l'Apostolo Paolo agli ebrei dicendo in ebrei capitolo 1 Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità perciò Dio il tuo Dio ti ha unto con olio di letizia. E dopo è scritto Tu Signore nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle Tue mani. Essi periranno ma Tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati ma Tu rimani lo stesso e i Tuoi anni non avranno mai fine. Per questo noi siamo veramente riconoscenti al nostro Signore. Io da parte mia vorrei augurarvi le benedizioni di Dio nelle vostre vie. Come abbiamo udito siamo all'inizio di un nuovo anno che il Signore ci ha dato ed auguriamo a voi e a tutti noi che il Signore possa portarci ad un punto in cui non dimentichiamo che la Sua parola rimane per sempre. Egli l'ha proferita ed Egli la dempirà. Posa il Signore benedire tutti anche tutti quelli che sono collegati. Noi abbiamo sentito e lo ripetiamo ogni cosa dipende dalla benedizione di Dio. nessun uomo nessun essere umano soltanto il Signore Dio possa Egli benedirci possa accompagnare ciascuno di noi finché passeremo dal credere al vedere. E in particolare mi ha toccato realmente quello che abbiamo udito la sera scorsa specialmente i nostri giovani lo dico così questi sono i nostri figli e i nostri nipoti vogliamo portarli in preghiera per favore non dimentichiamo che loro vivono in un tempo in cui sono esposti e devono combattere una battaglia che non è facile ma con il Signore ogni cosa è possibile perché Egli ha avuto la vittoria lode e ringraziamento anche per voi cari giovani il Signore ha combattuto per voi e voi siete anche vincitori ringraziamo ora il nostro Dio Padre Celeste noi ti ringraziamo per le parole di grazia che tu ci hai indirizzato questa mattina tu ci hai parlato e noi possiamo dire come allora i discepoli sulla via di Emmaus non ardevano i nostri cuori facci grazia Signore che la parola che ci hai indirizzato tu sei il nostro Redentore il nostro Sacerdote Signore tu ci rappresenti fino a questo giorno sul trono della grazia noi ti ringraziamo il tuo sangue parla ancora oggi per noi il tuo sangue è ancora qua sotto la protezione del tuo sangue noi possiamo avere rifugio e tu vegli su di noi Signore Gesù benedici il tuo popolo benedici il nostro entrare e il nostro uscire benedici le nostre case benedici le nostre famiglie benedici le famiglie dei nostri figli per favore benedici dappertutto in ogni lingua popolo e nazione tu li conosci tutti li vedi tutti li conosci per nome ti ringraziamo che tu hai chiamato oh Signore non siamo stati noi ma è stato per la tua grazia che abbiamo potuto dirti sì Signore io ti ringrazio al riguardo per favore dimora con la tua benedizione dimora con la tua grazia e accompagnaci Signore Gesù tu lo sai dai grazia al nostro volere e dona forza per poterlo fare affinché tu possa essere glorificato ed esaltato amén vorrei annunciare ancora una cosa prima che cantiamo che la lettera circolare in francese Dio volendo la stamperemo la prossima settimana e tutti quelli che vorrebbero riceverla possono lasciare il loro indirizzo alla sorella Giannina vogliamo dire ancora gli uni agli altri possa Dio essere con noi in modo particolare possa la nostra vita essere consacrata a lui in modo speciale e possa la sua presenza essere manifestata in ogni riunione per mezzo della sua grazia oggi chiameremo pure il fratello Kupfer in modo che egli preghi pure con noi e noi cantiamo più vicini a casa più vicini a casa Dio sia grandemente lodato per quest'ora un'ora santa noi l'abbiamo sigillata nel nostro cuore questa è l'opera del Signore noi possiamo semplicemente ringraziarlo fedele Padre Celeste anche in quest'ora la lode appartiene solo a te per la tua santa parola che noi abbiamo potuto ricevere e noi siamo coloro ai quali tu hai parlato io ti ringrazio noi siamo le tue pecore e le tue pecore ascoltano la tua parola e ti seguono questo è meraviglioso a te solo appartiene la lode e il ringraziamento io ti ringrazio per le promesse ti ringrazio per il tuo piano per la rivelazione per la certezza che tu ci hai dato nei nostri cuori senza riguardo di persona tutti coloro che tu benedici che ti ubbidiscono e ti credono Signore noi sentiamo la tua presenza tu ci hai acquistato siamo la tua proprietà abbiamo ricevuto il discernimento sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ti ringraziamo per l'unità di tutti i nostri fratelli possa questa preghiera di ringraziamento raggiungere il tuo trono di grazia possa il tuo santo messaggio essere portato in tutto il mondo noi lo crediamo ed abbiamo piena fiducia abbiamo la certezza che tu sei con noi sia grandamente lodato e benedetto il tuo meraviglioso nome di Gesù Amen quanti credono che noi siamo stati eletti per ascoltare tutto questo per sperimentarlo per favore portate con voi saluti in ogni popolo lingua e nazione in ogni città portate i saluti con voi dappertutto noi siamo uniti per sempre nel Signore e molto presto verrà il giorno in cui saremo rapiti nella gloria celebrando la cena del Signore la cena delle nozze il matrimonio dell'agnello il Signore vi benedica ricordatevi di me nelle vostre preghiere vogliamo ricordarci l'uno dell'altro possa il Signore completare la sua opera con ciascuno di noi e per quest'anno vi auguriamo grandi cose più di quanto sia mai accaduto prima Dio ha di più per noi di più per noi Benedetto e lodato sia il suo meraviglioso nome cantiamo l'ultima strofa del cantico numero l'ultima Amin, amin.